Nella nostra azienda abbiamo scelto gli ibridi Power Cell perché cercavamo ibridi ad alta produttività. Abbiamo riscontrato che sono ibridi che si adattano bene ai nostri campi e ai diversi tipi di terreno. Sono ibridi che alla nascita sono molto vigorosi, si sviluppano molto velocemente e appagano anche l'occhio dal punto di vista visivo. Questi sono ibridi molto produttivi, hanno un elevato stay grain, una grande finestra di raccolta. Sono ibridi resistenti a malattie fungine, a parassiti, a insetti e poi la qualità più grande è la digeribilità. È una fibra molto digeribile. In stalla con questi ibridi abbiamo aumentato la produzione perché un buon trinciato può farti guadagnare quel litro o due litri in più per vacca. Si nota subito che nelle feci non abbiamo presenza di granella e quindi non abbiamo sprechi e tutta la fibra e tutto l'amido viene digerito perfettamente nel rumine con una maggior produzione di latte. La nostra azienda ha seminato ibridi Powercell sia nel 2014 e 2015 e abbiamo notato che le diverse due annate, una molto piovosa e l'altra molto secca, non hanno inciso sulla produzione di questi ibridi che sono molto adattabili sia a un clima che all'altro. Per l'80% della superficie della nostra azienda sarà seminato un ibrido Powercell. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti.